Contro l'indifferenza per le morti di decine di menzioni. I studenti hanno gestito la loro scuola e partecipato a dibattiti su vari piedi. Perché ha voluto prendersi una pausa da ogni forma di apprendimento. Fanno una no per finire il programma didattico. Tutto questo, oltre a farci molto ridere, ha fatto riflettere che in una dimensione autogestita sono in grado di porre sul piatto noi modalizzati. Che vengono colpiti coloro che organizzano la solidarietà con i popoli oppressi. La nostra passione per la libertà è più forte di ogni autorità. La guerra non si combatte solo contro un esercito nemico sul fronte, ma anche internamente, nel cosiddetto fronte interno. ...e la propria opposizione... Crea un prima di caccia alle streghe con effetti facilmente prevedibili. Ma prima ancora che l'occupazione avvesse luogo, alcuni... ...con mobilizzazioni sull'intensità di massa che fino all'arico di questo governo sono spesso accompagnate anche da altri vandalici. Le scuole...